buongiorno ad obiettivo news oggi 31 dicembre la santa famiglia il 31 dicembre è anche noto come san silvestro o capodanno e segna il congedo dell'anno vecchio e l'anticipazione del nuovo questo giorno è celebrato in tutto il mondo con festeggiamenti eventi e tradizioni uniche la notte dell'ultimo dell'anno è caratterizzata ad atmosfere festose brindisi e scintillanti fuchi d'artificio a mezzanotte simbolo di speranza e inizio di nuovo ciclo in tutto il mondo le persone si riuniscono con amici e familiari per condividere questo momento speciale riflettere sull'anno trascorso e progettare i buoni propositi per i mesi che verranno anche questo capodanno al 31 dicembre 2023 sarà un'occasione per lasciarsi le spalle le sfide e accogliere il futuro con ottimismo la redazione di obiettivo news augura a tutti un magnifico 2024 a tutti un'occasione per la notte che si riuniscono con amici e